Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a mille like, condividete il video, iscrivete al canale Se hai nuovi, lascia l'hashtag Brawl Stars per sottolineare i commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Come avete letto dal titolo, oggi vi porterò una skin bellissima di Mordug su Brawl Stars Voi non ve l'aspetterete mai ragazzi, la vedremo durante questo video Ma prima di tutto andiamo a farci qualche partitina con Bombardino in caverna rumorosa Dove effettivamente lui domina la grande Anche se la partita fatta prima con Boo era molto meglio Mi scuso se non vi accetto ragazzi, ma sono sempre molto di fretta la mattina Perché comunque ancora sto portando la roba qui a casa nuova E quindi non ci sono, mi scuso Andiamo a farci qualche partitina E andiamo avanti, caverna rumorosa per noi Bombardino la grande Allora prendiamoci subito questa cassa facendo più danni possibili Anche con la star power adatta Mi scuso Bull ma ti devo tenere lontano La stessa cosa vale per il nostro bellissimo Leon Leon non devi passare qua, devi andare dal Bull se vuoi Se vuoi eh E com'è dal Bull? Sta lì il Bull Ci vai dal Bull? O no? Ok, l'abbiamo tenuto lontano per un po' Non abbiamo un power up solo Ok, quella cassa la stiamo regalando al primo che passa in pratica Opsi, c'era un Bull lì dentro Probabilmente si è fatto il Leon di prima Eh Ok, non l'ho colpito neanche una volta Ci piace questa cosa, no per niente Eh, guardalo Un Bull lì E' preso Preso due volte Preso tre volte Preso quattro? No Ah, aiuto Aiuto Ah Preso Ci ha provato, ci ha provato Dai Ammettiamo, ci ha provato Si è dato in su Si è dato malamente in su Eccolo Preso Non è vero Repare Non rientra il maledetto Rientra, ti prego Rientra Bravo Tesoro di mamma Io ho dato queste bombe Allora, una è stato preso Assolutamente Ok Il Bull è uscito fuori dai cespugli Oppela, è stato ripreso Quello è il più pericoloso C'ha dieci power up Ok, è andato in basso Probabile Eccolo, ho preso Ah, il Bull ha fatto la kill Siamo io e lui Quanto la vedo brutta sta cosa Guardalo Come c'è prova E Dove vai? Eh, non lo ammazzerò mai Regà, c'ha troppa vita Dai No, è impossibile Posso inventarmi quello che voglio Penso non ce la faccio Regà Almeno non faccio una magia Ma no Per poco però, eh Ci stavo riuscendo Continua ragazzotti Dai, una seconda posizione Per iniziare Non è per niente male L'unico problema è qua sotto Che mo' io devo Assolutamente Fregare quella Shelly Ma Non potrò, mi sa Ok Io ho fregato Giustamente due casse Che non sono male Due casse rubate Allora Una a me E una a te Ok Io aspetto Non ho problemi Tranquilla Shelly Prese L'avevo pure quasi colpito Anzi Con l'autohaim Era andato Ciao Shelly Dove vai? Ma guarda Io non mi faccio frega così Mica sono andato ieri Scusami Sei un po' troppo Che c'è credi Appunto Quindi Vedete un po' De date Ciao Opsi Dupsi Ci ha provato Dai Ci ha provato Diamogliene conto Ok Ci abbiamo provato Anche noi A rompergli le scatole Là c'è un bellissimo Leon No Non faccio team con te Leon Ma perché dovrei fare team con te Allora Questa è una super sprecata Ma potrebbe essere buona Per indagare Non ci passi qui Ti ho detto Ti sei preso pure Un po' di danni Oh La Shelly è arrivata di qua Quella è interesting Non puoi rompere tutto sto muro Sappito È troppo grosso Per romperlo Ok Si è data verso l'alto Ha deciso Un'altra strategia Probabilmente Di fuga Guardala Che cerca di nascondersi lì E invece rimane fregata Oppela Oppela Poveraccia Mi quasi dispiace adesso Allora Vediamo un po' se c'è qualcuno lì Qui Negli angoli Se nascondono sempre negli angoli Ah Già scontro finale di nuovo Eh no Però è una Shelly Se non la posso vedere Marino in faccia Sono morto Brutta situazione Che ti pareva Che stava proprio là E andiamo a dritto Ragazzotti Dai Allora Quella cassa Me la prendo immediatamente Io che posso Eh però Quella è fastidiosa La grande Dobbiamo stare molto attenti Ai suoi rimbalzi Lui ci può arrivare A colpirci A differenza di una Shelly Lì sopra Che sarebbe carino Infastidire Chi pilla Infastidire la Shelly Ok Vediamo un po' se ci va Precisa Precisa Il mio predict Per una volta ha funzionato Ah che bellezza Preso Preso Due volte Questa volta non ti prendo Preso Preso Eh ho capito Però non ti ammazzerò mai così Però potresti venire Qua è fregamme Perché io so come fanno Sti maledetti Quindi No Il coso sta là Perfetto Ok Bello giocare da dietro muro Sinceramente L'unico pericolo Sarebbe il Leon Che ci arriva steltato Sinceramente Oh Guarda lì la situazione Com'è diventata carina Dai Passaci No dai Lì ti dovevo Acchiappare Per forza Non c'è credo Che là Non ti ho acchiappato Se facessi una cosa del genere Ah Si è spostato Si è spostato Se no Era simpile La cosa No c'è il Tic No Il Tic 9 Prego Il Tic no Il Tic è in grosso Problema Eh io sto messo più in svantaggio di lui Per un motivo Perché la mia parte Questa di lato C'ha l'apertura Che entra Quindi vuol dire Che da me possono arrivare Da lui invece per adesso no Però lui a una certa Dovrà per forza passare qua Se non vuole morire nel fumetto Oppure passare di là Eh siamo rimasti in 4 Non è una buona In 3 Devo fare un gioco tattico Un po' strano E fregare quel Tic Ok Per ora nessuno sa che sono qui Infatti Il Leon Ha fatto il suo dovere No sta qua Porca miseria 12 Andiamo avanti ragazzotti Mordog Eterno secondo Assolutamente Dopo vi faccio capire Perché ho preso questa skin Ragazzi In particolare Perché vi devo far vedere Poi la mia De skin Sinceramente Una skin Molto carina E molto a tema Specialmente per quelli Che conoscono il canale Raga Mi dispiace per quel bullet Lo sto tenendo un po' stretto Ma Sta in un punto sbagliato Oh 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 C'ha un Frank Che vuole venire di qua Preso Preso Presissimo Presissimissimo Eh da là c'è mori Mi dispiace Tu ci devi morirla Eh Vabbè vabbè I'm so sorry ma Volevi far il bull Della situazione Allora non so se la c'è sta Eh sì che c'è ancora il Frank Eccolo Tu fa una fine brutta E barbina Lo sapevo io Eh E tu Che vai bull Vai via un po' Questo è mio Grazie Grazie Ok L'abbiamo fatto entrare Poverino Quindi c'è morto Contro la rosa Un po' per colpa nostra Perché l'abbiamo direzionato All'entrata Allora Non so se c'è qualcuno Qui intorno Quindi preferisco Oh È quello C'è il bombardino Nascosto lì Preso Guardalo Mori Ok Oh Stava facendo il camperone Regà Bombardino camperone Terzi 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 E se sterzi Se sterzi Te fai male Stavo per fare la rima Ma è meglio non farla Ok Non vedo gli altri Mi preoccupa questa cosa Ok No Ok Secondo di nuovo Eterno secondo Contro la rosa gigante Quindi Penso che ho perso Assolutamente Non Non posso sopravvivere Una cosa del genere Guardalo 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 Mamma mia Che c'è mancato E siamo arrivati al momento Che tutti aspettavate ragazzi Ecco la skin Di Mordug Mordug Mama Questa skin L'ha fatta Bels ragazzi Non è altro che Un reedit Della skin Questa di bombardino Abbiamo provato oggi Però in stile Mamma Mordug Per chi conosce il canale Sicuramente Saprà bene Il colore dei capelli Addirittura Gli ha fatto gli occhialetti Rotondi Però con il coso giallo Come quelli che porto io Arancione circa Molto carini Gli ha fatto il pizzetto E i ciglioni Regà Il pizzetto C'è il pizzetto Di mamma Mordug Là sotto C'è Una cosa stupenda E lei mi stava pure dicendo Ma sei sicuro che ti piace Non sono sicuro che ti piace È stupendo E l'effetto che ha fatto dietro Visto che è una cosa Di cucina Gli ha fatto l'effetto Tipo popcorn Tutto spugnato È carinissimo Il logo giustamente Quello lì di Brostards Con il cerchio di Febbag Che ci sta perfettamente dentro Va bene ragazzi Questa era la mia skin Su Brostards Arriviamo a mille like Condividete il video Schiedete al canale Se sei nuovi Lascia il hashtag Brostards Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video